Lorenzo Benedetti, settima stagione a Faenza, da oggi ti chiamiamo capitano. Eh sì, quest'anno ho questo compito, no sicuramente è un onore essere capitano dopo tante stagioni e spero di seguire quello che hanno fatto i precedenti capitani come Casta e Gigi, anche solo fare la metà di quello che hanno fatto loro. Ecco un bel messaggio che dà proprio anche la società, perché tu hai cresciuto qui, giovanissimo è iniziato, poi sono l'attore dell'Academy, l'attore del Basque 95, sei proprio l'uomo immagine in tutto e per tutto. No, diciamo che questo ambiente lo conosco abbastanza bene alla fine, sono sempre stato qua, è una sorta di seconda casa per me alla fine, sempre per questo è ancora di più un onore. Inizia la nuova stagione, primo giorno di scuola, si parte con tante ambizioni e la mente va a 101 giorni fa in quella partita di Firenze, che avete ancora un po' sullo stomaco. Adesso la mente deve andare alla prima di campionato, a trovarci con i nuovi giocatori che abbiamo preso e tutte le preparazioni in questo mese e mezzo che sarà fondamentale per la stagione. Lì in Firenze ormai non ci possiamo far più niente, non solo dimenticare e ricordarcelo, anzi quando andremo in campo con più grinta. Grazie. 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 Grazie.